Entro un mese partiranno in Puglia i vincoli del piano paesaggistico regionale, il primo adottato in Italia per salvaguardare il territorio, un corpo di regole per la trasformazione del paesaggio e la progettualità delle costruzioni ispirate al recupero e dal riuso e dalla connessione tra aree rurali e centri urbani. L'80% dei siti protetti è fuori dalle città, tra le aree inedificabili 156 mobili di interesse pubblico, tra cui le tremiti, trulli, la gravina di La Terza, le ville storiche di Bari, oltre 3.000 masserie storiche. In tutti questi casi sarà vietato costruire a meno di 100 metri dal bene tutelato. Il piano assorbirà il drag, il vecchio putti, i precedenti strumenti di pianificazione e le norme di salvaguardia per i comuni. Tra le novità i contesti introdotti insieme ai vincoli al cemento su grotte, doline, pascoli, parchi, aree archeologiche, strade panoramiche. Il piano contiene dei progetti territoriali per il paesaggio regionale che richiedono che noi coinvolgiamo ancora produttori, cittadini, filiere produttive come quelle dell'edilizia da un lato e dall'altro degli agricoltori, soprattutto per aggiungere qualità al paesaggio regionale. Oggi quando si vende un prodotto, si vende il prodotto legato al paesaggio e la qualità del paesaggio incide sull'appetibilità di questo prodotto.